Tanta incertezza quest'anno sotto l'albero di Natale dei dipendenti Brioni di Penne. Questa volta a impensierire i lavoratori e le sigle sindacali la notizia dell'addio a fine anno di Fabrizio Malverdi, amministratore delegato di Brioni. A dare annuncio di questa decisione Jean-François Palou, amministratore delegato del gruppo Kering che dal 2011 ha rilevato l'azienda di alta moda dell'area Vestina. Considerato l'importanza di Brioni per il nostro business dei prossimi anni, si legge nella nota di Palou, abbiamo deciso di nominare insieme a François Pinot Mehedi Benabagi già a partire dal mese di gennaio 2020. Benabagi conosce già il marchio e la storia Brioni, avendo in passato già lavorato come direttore delle strategie sviluppo. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno dopo che lo scorso 11 dicembre era stato avviato a Roma presso il Mise un tavolo tecnico che desse sicurezza e cercasse di risollevare le sorti di un'azienda che da decenni garantisce un posto di lavoro a tante famiglie dell'area Vestina. Quello che dicevano i sindacati corrisponde al vero, quindi abbiamo lanciato un input che si è rilevato certo con l'addio di Malverdi, quindi qualcosa è stato sbagliato e soprattutto c'è un'azienda che dovrà prendere atto. Noi crediamo che è finito il momento di giocare col fioretto, ma bisogna giocare con i fatti, con le situazioni vere, con soprattutto l'intervento industriale di piani seri dilazionati nel tempo. Solo così si può cercare di salvare questa realtà. Ormai siamo abituati a questi cambi. Speriamo che ogni volta che c'è un cambio, che quello che arriva sia migliore del precedente. Gli obiettivi infatti nostri per questa trattativa che stiamo conducendo dall'11 dicembre è proprio quella di rinnovare un contratto integrativo dignitoso che porta salari ai lavoratori e che è un accordo che faccia sì di tornare a una flessibilità almeno contrattuale, cioè quella prevista dal contratto nazionale, quindi alle 104 ore anche meno. Ricordiamo che Conquiti è ancora in atto una riduzione di orario, è ancora in atto una flessibilità e sono sacrifici che le famiglie di questo territorio stanno affrontando per mantenere l'occupazione. Noi come sindacato possiamo dire a chi deve arrivare a presto, già dal primo gennaio, che bisogna lavorare per riportare il giusto onore a queste famiglie, il giusto valore economico al territorio e giustamente ridare dignità a tutte queste persone. Non possiamo più permetterci che si lavora e non si vede mai l'obiettivo.